Una ricerca sull'identità del territorio tra Garda e Po. Andiamo a conoscerla. Un team di esperti, di ricercatori al lavoro per narrare il Mincio e i territori che lo circondano. Paesaggi, fortificazioni, battaglie, culture, culture, le opere di ingegno e le chiese. Oggi nella sede del Parco del Mincio la firma della convenzione che è stata sottoscritta dal prorettore del Polo di Mantova, del Politecnico di Milano Federico Bucci e dal presidente del Parco del Mincio, Pelitzer, proprio su questo progetto. È un'iniziativa che riguarda le competenze del Politecnico, competenze che vogliono valorizzare il patrimonio della cultura Politecnica e non c'è stata occasione migliore che questa, cioè lavorare sul fiume Mincio, lavorare sulla sua identità, lavorare sulla sua storia e sulla possibilità che ha questa risorsa straordinaria per il nostro ecosistema per progettare una società nuova. Lo studio verrà realizzato entro la fine dell'anno e poi pubblicato in un volume a disposizione anche di biblioteche e di istituti scolastici. Il progetto di ricerca è una delle azioni di valorizzazione delle terre del Mincio nell'ambito del progetto Waterfront dal Gardalpo, realizzato con i fondi europei di sviluppo rurale. Grazie. Grazie.